Il teatro Brancaccio un doppio appuntamento da non perdere con Neri Marco Re. Il poliedrico artista marchigiano, protagonista come attore di cinema, teatro e televisione, sarà in scena a Roma, stasera e domani, con come una specie di sorriso, uno spettacolo in omaggio a Fabrizio De Andrè. Marco Re sarà accompagnato dai New Quartet, un quartetto dal singolare organico strumentale, violoncello, violino, flauto, viola. In come una specie di sorriso c'è il Fabrizio De Andrè, anche quello meno conosciuto, che Neri Marco Re, qui nelle vesti di cantante e chitarrista, più ama. Il De Andrè che tutti amano partendo proprio dal verso di una delle sue canzoni più famose. Il pescatore. Un repertorio, impreziosito dagli arrangiamenti sofisticati di Stefano Cabrera. New Quartet, che trascinerà il pubblico in un emozionante viaggio musicale attraverso i versi immortali del grande Faber. Quelli di stasera e domani sarà un nuovo emozionante appuntamento con il teatro canzone, genere a cui Neri Marco Re si è dedicato tantissimo negli ultimi tempi esplorando pietre miliari della musica quali Giorgio Gaber, i Beatles e lo stesso Faber. Grandi protagonisti saranno gli New Quartet, Stefano Cabrera, Arrangamenti e Violoncello, Roberto Izzo, Violino, Francesca Rapetti, Flauto Traverso, e Raffaele Rebaudengo, Viola. Un quartetto dallo stile sicuro e inconfondibile, che ha caratterizzato i progetti di grandi artisti quali Subsonica, After Hours, PFM, Gino Paoli, Niccolo Fabi, Daniele Silvestri, Motel Connection e molti altri che hanno richiesto la loro collaborazione, guadagnandosi l'attenzione e l'apprezzamento del pubblico e della critica fin dagli inizi della loro carriera.